buongiorno a tutti allora dopo aver presentato la ferrari qua abbiamo la schedina si fa per dire di Kimi Raikkonen quindi bando alle ciance siccome la cosa sarà abbastanza lunga partiamo subito allora Kimi Matthias Raikkonen è nato a Espoo il 17 ottobre 1979 è un pullota automobilistico finlandese in forza alla ferrari in formula 1 con il cui numero di gara è il 7 nel corso della sua carriera corso in formula 1 per la sauber la mclaren la lotus e la ferrari ha sfiorato il titolo di campione del mondo con la mclaren nel 2003 e nel 2005 ed è riuscito a vincerlo nella stagione 2007 con la ferrari con la scuderia con la quale tuttora è l'ultimo pilota ad aver trionfato considerato come uno dei più grandi talenti dell'automobilismo di tutti i tempi Raikkonen è stato il pilota a essere arrivato in formula 1 con il numero minor numero di gare ufficiale disputate 23 corse alle spalle poi ne parleremo nel corso della sua carriera in formula 1 ha vinto 20 gran premi 9 con la mclaren 9 con la ferrari e 2 con la lotus è salito 91 volte sul podio sesto pilota in assoluto per numero di podi e ha ricordo e ha raccolto più di 1500 punti siglando 45 giri veloci secondo nella classifica di tutti i tempi dietro solo a schumacher che ne ha 77 soprannominato ice man uomo di ghiaccio perché freddo in gara e resti a trattare con i media il formula 1 uno specialista dei giri veloci in gara e attualmente secondo in classifica generale secondo per numero di giri più veloci consecutivi e primo assieme a michael schumacher per numero di giri veloci conquistati in una sola stagione che dovrebbero essere dieci ma ne parleremo inoltre detiene il record assoluto di gran premi consecutivi a punti 27 e di terzi posti 37 è l'ultimo campione del mondo per la scuderia ferrari ma l'avevamo appena detto tra il 2010 e il 2011 è inoltre partecipato durante il momentaneo ritiro dalla formula 1 al campionato del mondo di rally disputando 22 gare raccogliendo 59 punti nonché ad alcune prove della nascar bene proseguiamo chi mi nasce in una famiglia non molto facoltosa ad otto anni raccone mosse i primi passi nel kart nel 99 a prodone il campionato britannico di formula renault con il team manor l'anno successivo conquistò il titolo grazie a sette vittorie su dieci gare sette pole e sei giri veloci nello stesso anno gareggiò anche nella formula renault internazionale dove ottenne due vittorie due pole e due giri veloci su 23 gare alle quali aveva partecipato fino a quel momento in monoposto chi mi aveva avuto successo in oltre il 50 per cento ottenendo 13 vittorie fatto che atterò all'attenzione di peter sauber dell'omonima scuderia di formula 1 quest'ultimo lo invitò ad una sessione di test sulla pista del mugello questa volta attirando anche l'attenzione del plurititolato michael schumacher lì presente per dei colladi con la ferrari al test prese parte anche il colladottore del team sauber enric bernoldi fortemente spinto dallo sponsor red bull verso un posto da titolare per la stagione successiva i tempi sul giro del giovane finlandese furono eccellenti e migliori di quelli di bernoldi tanto che peter sauber decise di ingaggiarlo per il campionato 2001 17 anni fa pur contro il parere di elmond marco che continuava a spingere fortemente per il brasiliano c'è bernoldi quindi questa è la prima volta che un pilota di formula 1 esordiva dopo aver disputato solo 23 gare non in formula 3 non in formula 3000 il debutto in formula 1 avviene nel gran premio d'australia con la sauber con una super licenza fia provvisoria valida per le prime sei gare al volante di una sauber petronas penso che ve la ricorderete il suo debutto fu impressionante arrivando al sesto posto e guadagnando il primo punto mondiale dopo la corsa la federazione sportiva decise definitivamente di dargli la super licenza alla sua prima stagione raicone raccivolò 9 punti complessivi posizionandosi al decimo posto nella classifica finale del campionato del mondo scusate calcolate che in quegli anni lì i punti valevano primo secondo terzo quarto quinto e sesto posto e quindi a fare nove punti sono comunque tanti adesso anche il decimo prende un punto allora solo il sesto prendeva un punto gli altri dal settimo in giù cipirimerlo proseguiamo nel 2002 passò alla mclaren mercedes che versò una somma pari a 50 milioni di euro per averlo in squadra assieme a david kultar alla fine della sua prima stagione con la mclaren accumulò solo 24 punti che gli valsero al sesto posto finale per tutta la stagione però si dimostra molto più veloce nel compagno di squadra appunto david kultar ma fu spesso colpito da guasti meccanici tanto da contare ben dieci ritiri la sfiga di ray conen era già allora proseguiamo il 2003 per ray conen fu estremamente positivo pur disponendo della vettura dell'anno precedente seppur modificata si ritrovò leader all'interno del suo team e si giocò la vittoria del mondiale sino all'ultima gara alla fine della stagione si classifica o secondo con 91 punti consecutivi solamente due in meno del campione tedesco michael schumacher e davanti al colombiano pablo montoya la stagione 2004 fu meno fortunata e infatti terminò settimo con solo 45 punti nel 2005 ray conen dimostrò di poter lottare per il mondiale con il rivale fernando alonso nonostante un inizio difficile in questa stagione su 19 gare ha ottenuto ben dieci giri veloci in gara record assoluto detenuta pari merito con michael schumacher era la cosa che vi dicevo anche prima terminò il campionato al secondo posto con 112 punti nel 2006 a me la mancanza di affidabilità con di competitività della sua beclare mercede lo esclusero subito dalla lotta per il titolo però riuscì a conquistare comunque 65 punti tre pole position e terminare al quinto posto del campionato del mondo nel 2007 passò alla ferrari quindi il suo debutto al volante della f 2007 la nuova macchina della ferrari che ha utilizzato nel corso del mondiale appunto 2007 avvenne il 30 gennaio del 2007 a valencia quell'anno vinse anche il mondiale con 110 punti battendo stavolta emilton la stagione 2008 non iniziò sotto i migliori aspici per il finlandese alla prima gara in australia a melbourne si ritirò a quattro giri dal traguardo e venne riammesso in classifica solo in un secondo tempo per via di una squalifica in flitta a rubens barricchello al gran premio del giappone in cina e bambesina e concluse quindi con tre terzi posti utili alla ferrari per la conquista del campionato costruttori ma non per la vittoria del campionato del mondo perché ahimè lo vinse emilton ray conner terminò il campionato con 75 punti al terzo posto dietro al suo compagno di squadra massa e dietro anche a luisman emilton che visse appunto il mondiale la stagione 2009 non si aprì per niente bene per il finlandese che infatti chiuse la stagione con in sesta posizione con solo 48 punti il 29 novembre 2011 fu ufficializzato il suo ritorno in formula 1 alla quida della lotus perché ahimè dopo quella stagione così così e la ferrari decise di cambiare lui passò in lotus dopo aver appunto gareggiato nei rally e nella nascar e con la lotus nonostante non iniziò il campionato nella maniera migliore partendo in diciassettesima posizione alla fine dell'anno conquistò il terzo posto con 207 punti rimasto alla lotus e con di iniziò positivamente la stagione anche la stagione 2013 conquistando la vistoria del giro veloce nelle gara inaugurale in australia conclude la sua ultima stagione alla lotus in anticipo saltando le ultime due gare del campionato sia per un'operazione alla schiena sia per una controversia con la scuderia inglese in merito al mancato pagamento dello stipendio i suoi punti saranno 183 che gli valsero il quinto posto l'11 settembre 2013 viene ufficializzato il ritorno di rey conen alla scuderia ferrari per le stagioni 2014 2015 l'inizio del campionato 2014 non è esaltante e la stagione non lo sarà nemmeno perché chiuderà la stagione al dodicesimo posto in classifica generale con soli 55 punti la stagione 2015 vede finlandese trovare un nuovo compagno di bossa in ferrari il tedesco sebastian vettel nel campionato d'apertura belbon rey conen è costretto a ritiro per un problema nel cambio gomme al pistop la sfiga di rey conen prosegue perché d'altronde termina la stagione comunque al quarto posto con 150 punti nella stessa stagione ha ottenuto tre podi un secondo e due terzi posti veniamo al 2016 nel dan premio di inaugurare della stagione quello in australia come sempre rey conen virtualmente sul podio nella prima parte di gara è costretto al ritiro per un problema meccanico quindi tac puntuale l'otto luglio viene ufficializzato che il suo rapporto con la ferrari sarà rinnovato anche per la stagione 2017 e chiuderà la stagione con un sesto posto portando a 186 punti a 186 punti conquistati durante l'anno e terminando al sesto posto in classifica piloti veniamo all'anno scorso nella prima gara stagionale in australia raccone chiude quarto ovvero la stessa posizione di griglia di partenza si grande naturalmente leggero veloce perché lui è abbonatissimo il finlandese concluderà così il campionato al quarto posto con 205 punti in classifica ridata il suo miglior risultato dal ritorno in ferrari quindi vedremo quest'anno cosa combinerà io vi ho parlato di rey conen per 12 minuti spero di non avervi tagliato troppo vi saluto vi ringrazio successivamente faremo anche sebastian bettel ciao ciao Grazie.